Ciao amici per la recensione, vi paro oggi del Topolino 3449, copertina di Dipolito che dà un nuovo inizio insieme a Sisti alla nuova saga, cronache degli antichi regni. Guardiamola meglio insieme. In questi giorni in edicola trovate l'iniziativa legata ai ciondoli dello zodiaco di Topolino, con i primi tre ciondolini all'interno, il boxe e il cordino a 6€, oppure solamente sciolto a 3 appunto il topo. La copertina, ripeto di Dipolito, molto bella, un po' meno, secondo me, la saga al suo interno, ma ve ne parlerò a tempo debito. Questo è il fumetto, sempre appunto 3€, mi piaceva far rivedere anche Silvia Ziche a questo giro, perché di Paperone dice 1 miliardo di, no aspetta, 1 milio, 1.110, 2, 1 augurio e mezzo di buon anno. Gli auguri non costano niente, ma l'abitudine nel risparmio è più forte di lui. Sempre molto esagerata Silvia Ziche, ma che ricalca benissimo l'aspetto e il carattere dello di Paperone. Alex Bertani ci augura principalmente buon anno, promettendoci che sarà ancora meglio dell'anno passato. La classica frase fatta, speriamo sia così. Effettivamente, bisogna essere sinceri, il 2021 è stata un'ottima annata per il topo in termini di storie e anche in termini di promesse mantenute da parte del direttore, perché honestamente le storie presenti a me sono piaciute, in linea di massimo in generale. Quella che un po' meno mi è piaciuta è proprio la prima, ovvero Cronaca di Antichi Regni, capitolo 1 di Sisti e di Polito. Troviamo poi Giramondo, una storia molto bella, muta, su Paperoga. Miau, Cronaca di Feline è una storia ancora di Sisti, con il disegno di Casti. La prima storia non mi è piaciuta, perché a me il genere fantascientifico non piace. Quando si va a trasformare i personaggi, non solo a livello tecnico, ma anche a livello dinomea, in Quirlik, Tarquo, Quan Nan e Pauline, sono già quel tipo di cose che a me non piace. Quindi sarò un po' al veleno con questa saga, ma è la mia opinione, come tutte le altre video recensioni, rimane la mia soggettivissima recensione. Non mi è piaciuta perché è proprio il genere, è più forte di me. A me non interessano queste avventure fantascientifiche, in cui si va un po' a cambiare il contesto principale. Ciò che davvero mi ha un pochino più incurriso sono due le cose. La prima è la prunetta di Gilberto, qua chiamato Gilbert. E' questo personaggio che ricorda molto Pippo, per chi non lo sapesse, ma in realtà è il suo nipotino. Ed è un personaggio che era un bel po' che non si vedeva nel pagino del topo. Io non ricordo quando fu l'ultima volta. E la seconda cosa che mi è piaciuta di questa saga è stata, ed è insomma, la presenza anche dei topi, così appunto come lo è Gilberto. Perché lo zio Paperino e i nipotini abitano a Vasti Plano, che è il quartiere, la zona direi più a sud, e vi è una mappa col testimone, eccola qui, del mondo conosciuto. Mentre Flamok è la zona più a nord, e Flamok è la stessa dimora in cui vi sono praticamente i topi, dove sembra essere da capo Topol, eccolo qui, che viene chiamato da questa signora che non conosco l'identità, eccola qui. E lo zio accusa Topol e Flamok, quindi abitanti di Flamok, portare delle tempeste atmosferiche alla zona. Ovviamente Topolino rigetta al mittente le varie accuse, e quindi si crea un po' questo disagio fra i due popoli. In tutto ciò però il punto fondamentale è proprio Gilberto, questo personaggio che i paperi trovarono senza un apparente motivo, senza ragioni, in mezzo al nulla, in mezzo a un loro viaggio. Tra l'altro un viaggio che loro hanno affrontato, perlomeno questo iniziale, con una nave a ruote. Dunque, invece che solcare il mare, hanno solcato i prati. E la storia non so cosa aspettarmi, se non il fatto che Gilberto venne rapito, vedremo effettivamente cosa leggeremo. Il viaggio del Pippon Tic, seguendo il sole, altra storia un pochino avventurosa, un pochino fantascientifica, vedremo se sarà di mio gradimento o meno. Topolino, purtroppo a me questo tipo di storie, per quanto benissimo disegnate, ora anche il disegno è giusto che venga celebrato, non lo so, non mi entusiasma, forse perché dopo dieci anni di letture oltre sono storie già viste un po'. Topolino e il triplo capodanno, che fa parte della saga Topolino Giramondo, scritto in piccolissimo qua, di Zironi, che fa tutto, testo, sceneggiatura e disegni. Una bella storia, anche a livello di curiosità interessante, sicuramente una storia adatta a bambini, a ragazzini che per la prima volta sentono un po' i concetti di fusi orari, perché effettivamente, cari ragazzi, nella realtà esistono appunto i fusi orari indicati dai meridiani del mondo. Ogni meridiano, a partita da quello di Greenwich, ne coinvolge altrettanti, non ricordo bene quanto, dovrebbero essere 30-36, e ogni spicchio di terra dal basso verso l'alto equivale a un'ora, no? Quindi se oggi sono le 4 adesso, in realtà in un altro posto del mondo potrebbero essere le 5, in un altro posto ancora le 6 e così via. Quindi Topolino vuole sfruttare questa idea, questo concetto del fuso orario per vivere due capodanni. Quello che però succede è che ne vivrà addirittura tre, come da titolo. Una storia simpatica, carina, che secondo me meritava anche la prima posizione, meritava anche una copertina, perché effettivamente è a tema del periodo che stiamo vivendo, oppure del nuovo anno, insomma, che ci stiamo per avvicinare. Una serie di vignette mi sono piaciute, ovvero queste qua, al centro della storia, in cui Topolino, se fa un passo indietro, diciamo che può già augurarsi 2022, 2022, se fai un passo avanti, siamo ancora nel 2021, concettualmente è così. Infatti ci sono anche degli esempi, poi, in una rubrica successiva, che lo dimostrano davvero molto interessante, cui effettivamente tu puoi vivere più di un capodanno, se ti sposti da una parte o dall'altra, muovendosi di fatto di qualche chilometro, non di più. Un qualcosa che io non farò mai, non mi interessa inseguire il capodanno, come non mi interessa vivere più volte lo stesso ore della giornata, però può capitare, ecco, mi è già successo, ma non è che inseguo questa idea. La storia è ben disegnata, nello stile di Zironi, molto semplice, a mio parere, ma efficace, ben realizzata, e che, ripeto, meritava, secondo me, di essere anche la prima storia, ma poi per motivi di marketing, probabilmente, si è voluto omaggiare la nuova saga di Sisti. Obiettivo playoff, vedremo un po' come andrà a finire pure lì, e poi Marco Nucci e Tosolini ci deliziano di questa bellissima storia su Paperoga, che io la definisco la migliore dell'albo. Può sembrare una storia muta, quindi inconcludente, ma in realtà è una storia che dura ben 20 pagine, totalmente muta, quindi non è per nulla riempitivo, a mio parere, ma è una storia vera e propria. E qui devo davvero battere le mani a Marco Nucci e Tosolini, perché riuscire a realizzare una storia muta, per me, è il genere di storie più difficili, perché non solo lo sceneggiatore deve immaginarsi i non-dialoghi, ma renderli sottintesi, ma deve riuscire a dare delle indicazioni al disegnatore, che a sua volta comunque fa il suo gran lavoro, nell'interpretare benissimo le varie vignette, il che è qualcosa per me di difficilissimo. In più, la storia dura 20 pagine, in cui Paperoga vive con questo mostro di puzza, un mostro che lui stesso crea indirettamente, dà una sua torta, e inizialmente gli dà un po' magari fastidio e giustamente la presenza, poi si abitua a questo piccolo mostriciattolo, che si porta a spasso, a zonzo, qua e là, ovunque. Quindi la storia non ha senso, ovviamente, non c'è una morale, se non quella dell'amicizia, ma è veramente ben realizzata. Io non ricordo, nella mia vita, di avermi letto una storia muta così lunga. Fantastica. Veramente molto, molto bella. Io consiglio di leggerla, perché è un'estrema sintesi ho fatto. Mia Uncronica e Filine fuori portata, Zemelo e Faccini, altra storia carina di questa rubrica con un protagonista malachia, o malachia, o che dir si voglia, insomma, il gatto di Paperino, un personaggio che ne combina di cotte di crude, anche in questa avventura. Seppure, in questo caso, Paperino forse un po' troppo cattivello verso il suo gatto. E poi abbiamo l'ultima grande storia, ancora Sisti e Cassi. Penso che Sisti sia, insieme a Carlo Panaro, l'autore più prolifico attualmente sulle pagine del topo. E' tolto Artibani, perché Artibani non l'ho più visto nel topolino. Sisti, non so quante storie sforni, ma c'è un lavoro dietro allucinante. E la storia, l'ho sempre chiamata, topolino è il web Z. In realtà, il web 2.e basta. E ha anche un suo senso il titolo, perché poi leggendola sarà così. E per quanto la storia sia soggetto e scegliatore di Sisti, a me è sembrato di leggere una storia in stile Cassi. E non solo per il disegno, che rende tale, ovviamente, perché è suo, ma proprio anche la tematica affrontata. Quindi, mi viene da pensare che in realtà, ovviamente, Sisti abbia un po' parlato con Cassi. perché per me Sisti è più l'uomo di queste storie fantascientifiche, avventurose. Questa storia è un pochino con del mistero sotto, con il dottore Enigm presente, con Mister Vertigo, che per la prima volta compare in una storia non di Marco Nucci, e su questo vi dirò ancora una mia successivamente, non è da Sisti, è più da Cassi. Il mistero è avvolto nel fatto che sembra essere scomparso il World Wide Web, ovvero il WWW, quel classico protocollo che permette di scrivere, cercare qualsiasi cosa su Google, sul sito, insomma, su qualsiasi sito di Internet. Che tra l'altro, anche qua, ha una piccola curiosità, differenziando quello che è il WWW, da Internet, Internet alla rete, il WWW, è quel servizio, chiamiamolo così, gratuito, ovviamente, protocollo che permette a Internet di collegarsi da un sito all'altro. Il gatto, perdonatemi, ma oggi non vuole lasciarmi in pace, quindi mi aggola. E mi salvertigo, voglio lasciare una piccola postilla, non vi dico altro, non voglio neanche sfogliare oltre, anzi, sfogliamo indietro, perché così non vi faccio spoiler, è per la prima volta, vi ripeto, protagonista in diretto di una storia non da Marco Nucci pensata, e questo mi fa riflettere sul fatto che si voglia, in qualche modo, continuare a portare avanti il personaggio, perlomeno questa maschera, questo personaggio finto, in avanti con il tempo, insomma, avanti con le storie, e ciò mi piace, era quello che auspicavo, io spero che prima o poi possa avere un ruolo sempre più importante, non per forza da protagonista, ma anche da colpevole in diretto, tra virgolette, come lo è Macchia Nera, come lo è Gamba, nel corso delle varie storie. E, insomma, non vi dico altro, vi consiglio di leggerla, perché per me è meritevole. La mia preferita, paradossalmente, rimane quella su Paperoga, perché io ammiro tantissimo le storie mute, e poi una così lunga non la ricordavo assolutamente, ma quella di Sisti Casti va in seconda posizione, ecco. E ovviamente redazionale legato al WWW, che ha ben 30 anni, quando Robert Cagliò e Tim Berners li crearono il World Wide Web, davvero interessante per questa rubrica, ce ne fossero così, sempre. Redazionali, articoli, foto e controfoto, particolare anche il modo di collezionare di questi due ragazzi, Fabio, anzi Giulia e Luca, che per quanto maniacale io ritengo un po' ridondanti nel collezionare in questi scaffali, pini di topolino, che non si vedono in realtà, ma per esempio di spazio, presumo, solamente in questi raccoglitori. Tra l'altro raccoglitori, che in una pubblicità, ovviamente già, riecheggiano sulla proposta di, allora non so, l'avevo vista, di cambiare, di prendere raccoglitori, quelli nuovi, di motture ziche, a me non interessano, avendo lo spazio, fortunatamente, non li metto in raccoglitori, però c'è chi come loro, li ha raccolti in quel modo, e non la trovo più, l'avevo vista, e non la trovo più, vabbè, ormai avete capito comunque a cosa mi riferisco, spero, comunque, questo era il fumetto, ancora un'anteprima della prossima storia, che leggeremo la settimana prossima, ovvero Sergio Cabella, alla scrittura, con Thor Pippendal, altra storia, secondo me, fantascientifica, così avventurosa, che non faccia più di tanto, continuano ovviamente, i relazionali sui ciondoli, confermo, di Luca Usai, quello che uscirà in edicola, è, sono questi fumetti, GM e Paperino, li comprerò, seppur non mi interesserà, recensirli, Paperino, ne manca solamente uno, al 500, e questo è ciò che vedremo, nel prossimo numero, Beggio del Pippon Tiki, Crona Canetti Chiregni, Miau Crona Gafeline, Archivede, Gramogol, e Topolino, Le Origini, un fumetto, che direi di promuoverlo, con pieni voti, ma non pienissimo, direi un sette e mezzo, otto meno, la prima storia, a me, ripeto, non è piaciuta, per i motivi, che vi ho già raccontato, quindi totalmente soggettiva, è questa mia frase, questa affermazione, il triplo capodanno, una storia promosta, ma non indimenticabile, la storia di Paperoga, bellissima, non so perché mi sono, così tanto affezionato, ma secondo me, a tutti è piaciuta, poi di Marco Nucci, ma si vede anche, la scrittura, la sceneggiatura, per quanto sia una storia muta, il tratto, diciamo, l'idea di Marco Nucci, si sente tutto, ovvero questa stravaganza, questo osare, questo coraggio, nel portare un personaggio, con Paperoga, al limite, del no sense, Marco Nucci è uno dei pochi, che secondo me, riesce a fruttare al meglio, e poi la storia su Casti, comunque molto carina, io dico di Casti, perché onestamente, per quanto ceritosisti, sembra una storia, in pieno suo stile, e ciò mi piace, per oggi è tutto, e alla prossima, ciao ciao.